Nuova stagione, vecchi problemi. Gli albergatori di Alba Adriatica, alla richiesta più volte avanzata di maggior tutela delle spiagge flagellate dall'erosione, uniscono la speranza nell'ulteriore allentamento delle misure restrittive previste dal governo per una stagione serena. Il tallone di Achille resta però il reperimento del personale di sale e cucina ed il dubbio è che in qualche caso il reddito di cittadinanza possa aver ulteriormente inciso nella difficile strada verso il reperimento della manodopera stagionale. Quello che io posso sottolineare è sicuramente il calo rispetto agli anni passati delle richieste per quanto riguarda mansioni di ruoli per la sala, per la cucina, mentre invece sono costanti le richieste per le mansioni di back of front office, quindi lì rimangono abbastanza ingenti le richieste. Questo adesso se è dovuto ad una speranza nell'ottenere il reddito di cittadinanza, io non lo posso sapere. Certo che le cose possono essere collegate, ma questo io non mi è dato sapere. La motivazione del calo di queste richieste per il solito cameriere, l'aiuto cucina, lì un po' si fa fatica a reclutare questo tipo di mansioni personale. A dirla tutta, il problema del reperimento del personale di sale e di cucina attanaglia anche la ristorazione. Difficile trovare personale soprattutto quello specializzato ed anche gli istituti alberghieri non sempre riescono a soddisfare la domanda. Insomma, i giovani delle scuole professionali preferiscono fare altro alla fine. Colpo onore del reddito di cittadinanza, poi, resta il fatto che nel passato, a sentire giovani, alcune attività non avrebbero riconosciuto loro il giusto compenso per un lavoro pesante che occupa praticamente tutta la giornata, scoraggiandoli così a proporsi.